Bella a tutti ragazzoni e benvenuti nel sedicesimo episodio della nostra serie di minecraft Va bene, sono rimbambito completamente, signori Nel nostro sedicesimo episodio della Master League con il Livorno, signori Allora, scorso video abbiamo preso una batosta contro il Nuremberg Che non so neanche quale cazzarola di squadra sia Abbiamo un'altra partita di coppa, un'altra partita di campionato Dal quale dobbiamo rialzarci subito Siamo, no, dati all'avversario, no, informazioni del campionato, classifica Siamo sempre secondi a 18 punti Io non so come cazzarola che ho fatto fare questi 18 punti, però va bene Giochiamo contro gli ultimi in classifica Quindi, signori, gradirei una vittoria Così, giusto per parlare, ok? Impostazione e formazione Giochiamo con... Dove cazzarola siamo con quel ruolo? Con quella? No, non cambia formazione Non cambia giocatore, ma cambia formazione Giochiamo... Proviamo a giocare così Cambiamo, cambiamo modulo, signori Proviamo a giocare così E mettiamo un Orgas di qua E un Gambardoni di qua Anche se, forse, più che Gambardoni ci metterei Ceramitaro, sinceramente Ceramitaro di là E un Orgas... No, facciamo così Un Orgas di là e Ceramitaro di là Utaka di qua e Rossetti di là Va bene, signori Vediamo che succede Abbiamo un ennesimo cambio di modulo Contro il The Graf 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 Vediamo se riusciamo a portarci a casa una vittoria Dobbiamo difenderci, signori Sono le ultime partite Abbiamo un punticino di vantaggio sulla seconda E dobbiamo Difenderci questo posto, signori Che se no noi la Serie A non la vediamo nemmeno con il binocolo Ora, penso che in Serie A noi con questa squadra faremo uno schifo di più Però, 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 signori Già, a arrivarci sarebbe una bella Una bella soddisfazione Una bella soddisfazione Poi piano piano ci sarà il mercato Poi piano piano arriveranno altri giocatori Guadagneremo fama Del tongo Taran C'è la Mitaro C'è la Mitaro C'è la Mitaro Cerca il passaggio in profondità Per Rossetti Ma perché mi parte il pallonetto? Io non capisco perché mi deve partire il pallonetto Io non lo capisco E non mi parte la stafilata quella bella Io devo fare delle partite di prova Perché mi partono questi tiri ridicoli Invece della stafilata bella Quella con tutti i sensi No, 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 no Non so com'è Aranda Vabbè, vabbè, vabbè Ogni tanto gli piglia Che gli deve fare queste azioni Dai, levagli sto pallone Porca miseria Quanto ci vuole Ceramitaro, Ceramitaro Ceramitaro La perde ma la riconquista Grande Ceramitaro Grande Ceramitaro Grandissimo Ceramitaro Che continua a combattere su ogni pallone Giustamente Utaka era dietro Quindi non aveva chi minimamente passarla Là davanti Ceramitaro Grandissimo Ceramitaro Grandissimo Ceramitaro Grandissimo Ceramitaro Ceramitaro Rossetti La tira fuori Cioè Ceramitaro ha fatto qualcosa di impressionante Cioè si è tirato tutta la squadra lui praticamente Ha fatto tutta l'azione da solo E poi ce la siamo bruciata così E va bene, va bene, va bene Rossetti dove va semplicemente Amelia Ah, meno male che è fuori gioco Del tongo Cioè non riusciamo a fare due passaggi di fila Signori Ma io non capisco che problemi abbiano comunque i miei Perché non è normale Non è normale che non riusciamo a fare Pefzel Finalmente tocca un pallone anche Pefzel Per Utaka Che decide di partire Utaka, Utaka, Utaka Ma è chiusissimo Utaka Utaka, Utaka Riesce ad entrare Utaka Cazzo lo la fai Utaka Ok, ok Calma, calma, calma signori Calma signori Calma relax Calma relax Bello l'anticipo Pefzel 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 Del tongo Del tongo Per Carboni Gambardoni Sì, Carboni Gambardoni Che apre Per Ciaramitaro Che apre Per Utaka Che si gira Che vede Non dovevi darla a lui Dovevi darla a uno Orgas Dovevi darla a gas gas Porca miseria Dobbiamo fare questi giocherelli Questi giocherelli Ciaramitaro Porca miseria Che cazzo l'hai passata Ciaramitaro Abbiamo fatto conquistare No, no, no L'intervento è inutile Non lo so Vogliamo farglielo Albitro 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 Fortesemente Fine primo tempo Gambardoni Ma era un minuto Di recupero Porca miseria Gli devi far segnare Per forza Meno male Che c'ha i piedi storti Come poche cose al mondo Dai, dai Calma e sangue e freddo Calma e sangue e freddo Relax 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 Giochiamo veloci di palla Dobbiamo trovare il gol per forza Signore Dobbiamo trovare il gol per forza Perché Perdere o pareggiare questa partita Significa Disastro più totale Disastro più totale Perché la prossima partita È contro il Siviglia Se non ricordo male C'è la parentesi di Coppa E poi la partita con Siviglia Calma Bravissimo Giallombardo Che cerca Utaka Se ne va Utaka Se ne va Utaka Lento come poche cose al mondo Brutto fallo su Utaka Cinquantesimo Albitro Buttalo fuori Buttalo fuori Niente Richiamo inutile Pallone al limite dell'aria Gambardoni Gambardoni Fallo ancora Grande così Come si tirano queste punizioni Non mi ricordo come cazzo Si tirano le punizioni Ma noi ci proviamo lo stesso Il cuore oltre all'ostacolo Peccato Era bella Non è scesa abbastanza Non è scesa abbastanza Però noi ci crediamo Noi ci crediamo Noi ci crediamo Noi abbiamo un punto di vantaggio Sul Mensa Che è secondo in classifica No? Sì Allora Vargas Gas 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 Si ferma Gas gas per Gambardoni Gambardoni per Utaka Utaka per Rossetti Rossetti Non lo so se lì la partita La sta filata Secondo me no Del tongo Del tongo Non riesce a chiudere Attenzione il pallone Loro sulla fascia Con Gialombardo Che lo riconquista Gialombardo per Rossetti Rossetti mio A parte che cazzarocci Faceva Rossetti lì Non lo so nemmeno io Però va bene Abbiamo perso il pallone Che avevamo appena riconquistato Mannaggia Calcio d'angolo Al sessantaquartresimo Non riusciamo più a vincere una partita Signori Amelia Cosa cazzarone è successo Però va bene Gambardoni Per Ciaramitaro Per un Orgas Per Utaka 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 Sia di batti e ribatti Utaka riconquista il pallone Attenzione Rossetti 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 accelera Rossetti 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 Fatti fare il rigore Rossetti mio Mannaggia a te A chi non te lo dice Rossetti Rientra in aria Rossetti Traordinario anticipo Traordinario anticipo È stato un passaggio di merda Di Rossetti Non è stato uno straordinario anticipo È stato un passaggio di merda Di Rossetti Vargas Vargas per Gambardoni Gambardoni Che cerca Gas Gas Che non riesce Si fa chiudere Stacco di testa buono Pefsel Pefsel per Gambardoni 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 accelera Gambardoni accelera Si allarga Si allarga Cerca Utaka Utaka che cerca Rossetti 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 Che si è creato lo spazio Rossetti Ai 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 Tante belle azioni ma non riusciamo a concludere in porta Io non so quale sia il problema di questa squadra Io non so quale sia il problema di questa squadra Ciara Mitaro Ciara Mitaro Anticipato Brutto l'intervento ma l'albito lascia correre e va bene così Dai 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 recupera sto pallone Che cazzarola di una miseria Utaka 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 Attenzione Utaka Attenzione Utaka è partito Utaka è partito Utaka è partito Utaka è partito Cercato Rossetti In profondità E punizione Punizione dal limite Attenzione Attenzione Nooo niente Finisce qui signori Ci giochiamo l'ultima chance Con una punizione inutile E finisce 0 a 0 signori Contro il The Crafts Altro pareggio Oserei dire inutile Inutile Il Siviglia ha pareggiato Il Ren ha vinto Eh signori Abbiamo perso la testa della classifica Abbiamo perso il secondo posto signori Ebbene sì Abbiamo perso il secondo posto A quanto? Due partite dalla fine? Intanto vediamo un attimino Questi salgono ma Del tutto inutili Perché non Guarda qua Un orgasmo utile Utaka non c'ha minimamente voglia Rossetti Rossetti è l'unico che ci dà soddisfazioni Ma è inutile come poche cose al mondo Anche a Rossetti Signori Anche a Rossetti Inutile come poche cose al mondo La prossima partita è il ritorno di Coppa Ritorno di Coppa Mi fate vedere in classifica Siamo terzi Abbiamo perso La seconda posizione Il Ren ci ha superato A un punto sopra di noi E va bene E va bene A quante partite dalla fine? Tre partite alla fine Va bene Dai Ce la possiamo ancora giocare Signori Ce la possiamo ancora giocare Non è finita Non è finita Detto questo Io vi ringrazio per questo video Vi ringrazio per i like Per i commenti Per i genti e per il supporto Noi ci vediamo sempre qui sul canale Per un prossimo appuntamento Raga Bella Ciao Ciao Grazie mille